ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi sarà un video di video acquisti secondo inerente al mese di giugno allora premetto che non mi è arrivata tantissima roba mi sono arrivati solo tre pacchettini uno proveniente da ibs e due provenienti da amazon allora io inizierei subito dal primo pacchetto proveniente da ibs a dire la verità questo pacco è già un pochino che l'ho ricevuto aspettavo che mi arrivasse qualcos'altro per poter fare un video allora l'ho trovata scontata e ho deciso di recuperarla una notte violenta e silenziosa titolo in blu ray titolo che non ho visto ho sentito parlare bene però di questo thriller barra oro non so per più un thriller cercavo di guardare se c'era qualcosa di scritto non c'è assolutamente niente quindi per me è un thriller allora andiamo a vederci la marei del film non so dirvi assolutamente nulla perché ovviamente lo sto prendo adesso e quindi non l'ho visto quindi semplice amare disco singolo appena ragazzi lo visionerò vi dirò cosa ne penso sicuramente un bel film sicuro allora andiamo ad aprire i due pacchettini proveniente da amazon allora prima questo perché mi è arrivato già da forse una settimana forse anche più qui ci sono due edizioni ora ho recuperato ragazzi il volo della fenice nel 1965 quindi questo è l'originale adesso andiamo ad aprire con james stewart ma ci sono tantissimi attori conosciuti in questa pellicola pellicola che ho trovato veramente bella a dire la verità questo film l'ho guardato per la prima volta che non è tantissimo e dopo averlo visionato deciso di recuperarlo andiamo ad aprire la marei titolo in dvd ragazzi e adesso andiamo a vederci questo libricino che non è altro che pubblicità quindi non mi soffermo su questo libricino filma molto bello che vi consiglio di recuperare se ancora non l'avete visto e avendo acquistato l'originale ho recuperato anche il remake quindi sempre il volo della fenice anche qui dennis quade miranda otto you lowry giovanni ribisi tirese gibson questo invece non l'ho visto questo titolo ragazzi non l'ho visto mi hanno detto che è inferiore all'originale ma ovviamente me lo immagino anche questo sono comunque curioso di vederlo perché avendo visto l'originale da poco ci tenevo anche a guardarmi il remake come sapete io molto ho questa fissa di di andarmi a recuperare o remake o l'originale per fare un paragone tra i due vedere insomma come hanno sviluppato la storia perché molte volte il remake è ovviamente peggiore dell'originale e secondo me ci sarebbe la possibilità non non dico di avvicinarsi all'originale perché per come la vedo io molte volte è impossibile avvicinarsi alla pellicola originale con gli attori che c'erano in quell'epoca e grandissimi attori la storia perché quelle storie lì di quegli anni lì secondo me sono ineguagliabili però molte volte un remake può essere magari rivisitato diversamente e può essere anche godibile e mentre mi sono ridotto a vedere alcuni remake che fanno veramente schifo non tentano neanche di di andare a si scoppiazzano perché sono remake quindi la storia è quella lì però non non c'è quell'intensità non c'è gli attori non sono all'altezza molte volte e quindi per citarvi il benurra il benurra originale il benurra che tutti conosciamo lo storico con il remake che io quando ho visto il remake che l'ho già detto in un altro video veramente mi sono cadute tutte e due per terra sapete di cosa parlo e mi sono cadute veramente tutte e due per terra e avevo quasi deciso di staccare e di tirare il blu ray fuori dalla finestra dopo mi è stato detto che invece il remake era più bello dell'originale a quel punto lì ho alzato le mani ho detto dei gusti bus però non mi dite che il il remake di benurra e all'altezza dell'originale perché mi viene da ridere poi ognuno può avere i suoi gusti vabbè comunque ho aperto questa parentesi per dirvi che spesso e volentieri i remake sono sono inutile per quello che mi riguarda sono film fatti sull'onda del successo che hanno avuto gli originali ma che insomma non sono mai all'altezza secondo me non sono mai all'altezza allora andiamo ad aprire anche questo pacchetto li trovi inutili trovi inutili poi non lo so magari per questo titolo non sarà così però io li trovi inutili allora questi invece sono gli ultimi due arrivi allora ho recuperato ragazzi la trilogia in 4k di creed qui volevo acquistare la steelbook 4k ma siccome venivano a trentina d'euro e questo cofanetto qui era andato in sconto a 31 euro mi sembra ho deciso di acquistare il cofanetto il cofanetto tutto intero con tutti e tre i titoli anche perché i primi due li possiedo in blu ray quindi non avevo i 4k né del primo né del secondo non avevo le steelbook non avevo niente avevo due semplicissimi amerei blu ray e quindi mi son detto con con questi soldi preferisco comprare tutti e tre i titoli in 4k e così ho fatto anche perché non sarebbe stato bello insomma avere il terzo capitolo in steelbook 4k i primi due in amerei blu ray quindi non mi sarebbe neanche piaciuto da metterci lì di fianco adesso magari il primo e il secondo creed in blu ray magari non so se mi capita di vendere li vendo ok adesso andiamo a gustarci questa edizione come ho detto 31 euro tutti e tre i film vabbè c'è la slip sfiliamo la slip e andiamo ad aprirlo questo è il primo creed quindi creed e creed vabbè i primi titoli sono in 4k e poi abbiamo i blu ray ok stavo guardando come li avevano sistemati quindi primo in 4k creed 2 in 4k e creed 3 in 4k e poi abbiamo anche i blu ray quindi il primo creed in blu ray secondo e qui c'è il terzo quindi abbiamo tutta la collezione sia in blu ray che in blu ray 4k bella cosa il terzo non l'ho visto il primo non mi era dispiaciuto per niente il secondo così così il terzo non ne ho proprio nessuna idea anche perché non ho neanche ascoltato non ho neanche letto recensioni di nessuno e quindi sono proprio lo sto guardando per quando lo sarà il momento di guardarlo insomma non avrò proprio la mente libera non penserò a quello che hanno detto gli altri anche se comunque non penso mai al giudizio degli altri perché come dico sempre aspetto di guardare una pellicola e poi dopo giudicarla io in prima persona però di solito quando si sentono magari tanti o più tante opinioni negative magari non dico che ti fa influenzare però magari quando vai a vedere un titolo dice vabbè tanto qui hanno detto che il titolo fa schifo e quindi adesso lo mettiamo su e quindi invece qui proprio sono non so cosa aspettarmi ecco e poi ragazzi la steelbook 4k dell'ultimo ant man and the wasp quantum mania ok qui invece continuerò a comprare le steelbook perché come ho già detto tante volte da quando hanno smesso di fare le edizioni 3d con la slip mi sono messo a comprare le steelbook quindi da black widow in avanti ho tutte steelbook allora andiamo a cavare il cartoncino anche qui hanno ricominciato a fare sta cavolata qui e non mi piace per niente orca miseria che si rovina tutto si rovina tutto rimane la colla cacchio di cartoncino che ci va sopra così quando lo vai a staccare si piega non so delle volte che arriva senza il pezzettino di sopra a volte col pezzo non so non hanno ancora ancora loro non hanno capito cosa fare allora questa è la steelbook molto bella il film ma non l'ho visto neanche su disney plus adesso vi faccio vedere l'interno quindi disco 4k e disco blu ray ho visto che è disponibile su disney plus non l'ho guardato apposta perché aspettavo comunque la steelbook 4k e quindi me lo voglio gustare inserendo il disco questo all'interno della steelbook poi c'è una card molto bella con tutte queste parti rilievo lucide molto molto bella devo dire la verità se poi le avessero fatte anche numerate sarebbe stato ancora meglio però comunque già un bel lavoro una bella carta allora andiamo a rinserire i dischi non so ragazzi questo film come sia ho sentito parlare male di questo film molto male però ho sentito anche a qualcuno che a qualcuno è piaciuto quindi insomma come dico sempre vi darò una visionata e poi dopo vi dirò cosa ne penso nel solito video la mia collezione di dvd blu ray e 4k quindi appena l'avrò visto lo metterò nella mucchia dei film che ho guardato e quando ne ammucchierò una ventina più o meno farò questo benedetto video ragazzi io con questo ho finito questo video nel prossimo video che pubblicherò vedrete un'edizione proveniente dalla Repubblica Ceca non vi dico altro anche se avrete già capito di che label si tratta un'edizione bellissima un'edizione che aspettavo da diverso tempo cercavo cercavo speravo questa edizione mi arrivasse prima anche loro hanno slittato la data di uscita di diverse settimane e poi finalmente insomma me lo sono ritrovato spedito dopo ci ha messo veramente una decina di giorni da quando hanno spedito il prodotto però come sapete qui da me è ancora zona alluvionata ci sono ancora diverse strade chiuse diversi ponti inagibili e quindi sicuramente questo sarà stata la causa del ritardo perché il 24 mi sembra che era già in Italia l'edizione e mi è arrivata mi sembra il 31 quindi ci ha messo bene una settimana di solito in un paio di giorni quando arriva in Italia se non il giorno dopo ce l'hai a casa invece questa volta insomma c'è voluto un'altra settimana e niente ragazzi quindi vedrete questa bella edizione ovviamente non l'ho aperta quindi l'ho vista solo dalle fotografie niente più quindi andremo ad aprire assieme lo scatoloncino e andremo a gustarci quella bella edizione non vi dico niente ragazzi seguitemi nel prossimo video niente ragazzi io con questo ho finito se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi il like attivate la campanella iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti